ciao amici bentornati su festecomplani.com io sono il vostro mister nani la scultura di oggi è dedicata al migliore amico dell'uomo no non è il gatto no non è l'elefante i cani bravissimi amici vedremo come realizzare un nuovo tipo di cagnolino è piccolino è bianco e alla barba ovviamente stiamo parlando del barboncino sì la barba ha il pelo qua e sulle orecchie per fare il nostro barboncino ci servirà solo un palloncino di colore bianco iniziamo subito dal musetto ora faremo le zampette anteriori due salsicce e due palline per fare i piedini per completare la testa facciamo tre salsicce per le orecchie la fronte e l'altra orecchia facciamo la schiena e due salsicce per le zampette anteriori con la parte di palloncino rimanente facciamo la codina ecco qua il nostro barboncino completo in ogni sua parte musetto testa zampette anteriori corpiccino zampette posteriori e codina potete trovare questo e tantissime altre sculture di livello facile nelle nostre playlist sul nostro canale youtube feste compleanni non immaginerete ma ci sono un sacco di sculture che si possono fare solamente con un palloncino andate a provarle tutte quante ragazzi vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al nostro canale youtube feste compleanni per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti amici per oggi è tutto un saluto dal vostro mister rani e dal barboncino uff 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 u Grazie a tutti